Fondazione Olli è una realtà no profit che si occupa di promuovere progetti finalizzati al benessere in ambito scolastico. Le attività che caratterizzano la nostra operatività sono principalmente quelle legate al supporto psicologico e alle proposte formative per docenti e genitori. A seguito dell'emergenza sanitaria ci siamo interrogati molto su cosa era possibile fare in più, oltre a quello che già facciamo, soprattutto offrendo uno spazio dedicato agli insegnanti. È nato così il progetto Lettere dalla scuola, un concorso letterario che si pone come obiettivo quello di raccogliere racconti e poesie scritti dagli insegnanti che hanno voglia di raccontare come hanno vissuto quest'ultimo anno. Saranno premiati non solo i lavori migliori ma anche gli istituti che registreranno una maggiore adesione all'iniziativa proprio per valorizzare lo spirito di squadra. Il concorso, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa Risparmi di Biella e patrocinato dall'Ufficio Scolastico Territoriale, sarà presentato nel mese di giugno e la premiazione prevista per la fine di ottobre.